Oggi siamo in Sartegna e intervistiamo Antonella Orru, sorella di Anna, due sorelle, due bravissime e sorelle che si occupano dell'eredità del papà, che amava tanto e vi ha trasmesso questo amore per la terra nonostrante la vostra formazione di tutta altra natura, ma di questo ne parliamo dopo. Adesso siamo qui con Olio E di Antonietta Mazzeo perché come sempre il nostro olio lo vogliamo amaro e piccante, due note importantissime per un olio di qualità e Antonella ne sape qualcosa di queste due note particolari dell'extravergine. E vogliamo visitare il suo oliveto, la sua proprietà e conoscere un po' più da vicino quello che è il suo lavoro e il prodotto finito che ottiene da questo amore per questa terra. Allora siamo in Sardegna, esattamente dove, in quale provincia e in quale zona? Allora qui siamo in provincia di Oristano e qui questo oliveto si chiama Siska, è proprio la zona e il suo nome da sempre. E qui abbiamo sia delle piante secolari che delle piante più giovani. Ok, perfetto. Allora senti, tu hai tratti il tuo oliveto, la tua proprietà come se fosse un figlio. Esatto. Parole tue tra l'altro, non avendo avuto, hai fatto una scelta diversa nella tua vita, quella proprio di curarti di questa proprietà come fosse una tua creatura. Esatto, vai vai Antonietta, poi parlerai con mia sorella che dove trasferirà proprio tutto questo amore viscerale che ha proprio, perché lei si occupa anche delle cure agronomiche. Però è così, effettivamente è così. Ok, senti, questo tuo figlio, che scuola vorrei fargli fare da grande? Che progetti hai? Eh, detto bene, come quando si ha un bambino si hanno dei progetti per lui, idem, anche noi abbiamo dei progetti. Allora, assolutamente queste sono le piante centenarie, sono le nostre piante ereditate dagli avi, quindi noi abbiamo un compito importantissimo di mantenerle produttive, sane, per poterle poi passare ai nostri posteri, perché appunto questo, noi siamo di passaggio, loro invece avranno ancora tanti anni e noi dobbiamo far sì che loro appunto, per questo abbiamo scelto anche la coltivazione biologica, che loro rimangano prospere, che rimangano appunto belle e vegetative e che riescano a fare del buono unio sempre e costantemente. Quindi dei progetti, il progetto è quello di curarle sempre di più, dandogli amore e cercando appunto di fare tutto con delle buone norme, diciamo Antonietta. Quindi la potatura, quando occorre la concimazione, i trattamenti, quello che insomma, come si fa per un bambino, gli si dà quello di cui ha bisogno. Certo, certo. Senti, la tua formazione che è farmacista, perché la tua formazione è tutt'altra cosa, però in questo campo in un qualche modo ti si aiuta, cioè ti avrà aiutato questa tua formazione? Sì, magari sai, per quanto riguarda la parte chimica e per quanto riguarda la parte pittorosanitaria, sì, come affrontare magari le problematiche degli infestanti o queste problematiche, sì, oppure anche sai, per quanto riguarda il terreno, il fabbisogno del terreno, in quel senso mi ha aiutato, un po' di formazione c'era già, anche se poi io mi sono immessa in questo mondo che è un po' completamente differente, diciamo, però sì, la formazione chimica c'è, quella c'è assolutamente. Certo, senti, ma anche a livello nutraceutico, tu sai che l'olio extravergine d'oliva ha delle proprietà uniche al mondo, perché è un prodotto, anche in questo, ecco, anche in questo la tua formazione, la tua attivazione scolastica ti avrà indirizzato per comprendere meglio quello che è il prodotto. Assolutamente, tutta la parte chimica, della parte liposolubile, della parte, tutta la parte dei grassi, dell'acido oleico, degli acidi saturi, insaturi, assolutamente sì, la parte dei polifenoli, che sono quelli che ci fanno qui tanto bene, che sono responsabili dell'amaro e piccante, che è appunto, come dicevi tu, quando un olio è amaro e piccante, noi dobbiamo proprio essere contenti e apprezzare queste sue caratteristiche, perché sono sinonimo di qualità e più amare, più piccante, più vuol dire che ci sono polifenoli, quindi ancora maggiormente fa bene alla nostra salute e quest'olio si conserverà anche per lungo tempo. Per quanto riguarda le analisi chimiche, ci sono tutti dietro dei parametri, diciamo, della acidità, dei ferossi, dei delta, eccetera. Però sì, è servito, è un mondo affascinante, puoi sapere anche tutte le proprietà che ha l'olio d'oliva, che fa bene al nostro cuore, che fa bene al diabete, che è anche stato dimostrato anche per alcuni tumori, quindi insomma fa benissimo. Io guarda, sto molto attenta alla mia alimentazione, ti dico la verità, però io ti dico una cosa, a me non manca mai sia a pranzo che a cena quei 15 grammi di olio d'oliva, che poi può essere semidana, che la nostra, può essere una bosana, può essere l'olio pugliese, curattina, pesce, tutti quei, però io guarda, tutto mi posso far mancare, ma non l'olio a pranzo e l'olio a cena. Perché fa bene, fa bene al colesterolo, fa bene a tutto, ma secondo me ti dà mangiare bene, ti dà buon umore, tu lo sai, mangiare e bere bene non ce ne possiamo privare, è un regalo per il nostro benessere mentale e anche fisico. E' fisico, esattamente, esattamente, la penso assolutamente come te, lo sai. Poi come dico a tanti dei nostri, anche corsisti, quando si avvicinano a questo mondo, dico da oggi per voi sarà un mondo molto più difficile, perché comprendere anche chi ancora ha questo tipo di formazione, non ce l'ha, e che non riesce a comprendere quali sono queste proprietà organolettiche, che sono da apprezzare e non da penalizzare, perché molto spesso ti senti invece dire ah, è forte, è piccante, è grasso, cioè confondendo quelle che sono, quel difetto di un olio fatto male, con quelle invece che sono le caratteristiche positive, quindi le famose note di amare il canale. Esatto. Ecco, quanto trovi difficile invece far comunicare con il consumatore questo tipo di caratteristiche, fargli capire che invece sono note buone, che devono esserci. E' difficile in quanto, perdonami tra virgolette, c'è ancora molta ignoranza, c'è ignoranza perché il consumatore medio è abituato all'olio del supermercato, perché vogliono spendere poco, vogliono spendere 2,90 euro, però non ti chiedono come è possibile che un olio extravergine d'oliva, così 2,90 euro, quanto un olio di arachidi, è vergognoso questo. Quindi che oli sono? Quelli sono oli che sono stati sicuramente ripresi, magari oli lampanti, rilavorati, mischiati, oli provenienti da fuori, eccetera. E quando sono abituati a quell'olio lì è difficile, però sentono la differenza, perché sai, quando il palato è abituato a un prodotto non buono, ne assaggio poi uno buono, la differenza si sente. Il problema è mettere le mani nel portafoglio, anche se io mi chiedo, noi compriamo una bottiglia di vino, a me e te, cioè, siamo appassionati e spendiamo, sono 15, 20, 30, 40, non esageriamo, perché poi il consumatore si spaventa. Ne spendiamo anche tanti di più. Sì, sì, sì. Quanto ci dura quella bottiglia di vino? Una sera, un'ora, è finita. Ma noi siamo ben felici, perché ci siamo bevute quel vino, ce lo siamo sentite, abbiamo sentito i profumi, abbiamo sentito le caratteristiche gustolfattive, siamo felicissime di aver accompagnato quel vino al nostro pasto. e l'olio è la stessa cosa, cioè ti esalta il piatto, quindi è difficile, però ripeto, vedo che la gente è sempre più forse anche trenata dal mangiare bene, dalle proprietà salutistiche che ha l'olio, si sta avvicinando, cioè chi vuole mangiare bene si sta avvicinando a questo mondo. Sì, per fortuna. È per fortuna. Io faccio i laboratori con i bambini, quindi a loro faccio degustare sempre il nostro olio, un olio del supermercato e faccio assaggiare anche un olio arancido, per far sentire un po' le differenze. E poi noi facciamo il pane fatto in casa, in agriturismo, e fanno la merenda con l'olio. Per me la Giulia più grande, quella mi ricordo sempre, la merenda più buona, ne voglio ancora. Cioè quando questi bambini apprezzano veramente il sapore, il gusto, il profumo. E mi capita spesso che poi, noi facciamo anche campagna amica, che le mamme vengano a comprare l'olio, o tornino magari in agriturismo. Questa è sua soddisfazione, perché educare i palati dei più piccini, insomma, è importante, perché il nostro futuro è la generazione che poi ci seguirà, per portare delle differenti, dei risultati. È da lì che bisogna iniziare, da quando sono piccoli, perché educarli da grandi è molto più difficile, e da piccolini invece è molto più semplice. Ed è un'esperienza che ho vissuto anch'io ed effettivamente dà molta soddisfazione, appaga molto di più. Senti, un'altra cosa. Nel campo avete solo la Semidana o altri cultivar della zona? Allora, principalmente... Dove sei finita? Ho scritto anche la DOPE Sardegna, quindi abbiamo... Scusami... Sì, ti ho persa per un attimo. Sonietta, ci sei? Sì, sì, ci sono. Mi ho perso perché mi stava entrando una chiamata e l'ho chiusa, per questo attimo mi ho perso. Scusami, ti stavo dicendo, oltre a Semidana, noi abbiamo la Tonda di Cagliari, che è anche chiamata Nera di Gonos, che è un'oliva più grande. Diciamo che ha una duplice attitudine, quella da olio e quella da tavola. Però ti dico la verità, noi principalmente la usiamo come oliva da tavola, perché ti dà un olio che è scarico di polifenoli, sicuro ti vedo la verde e inizio in bagliatura. Sì. Quindi la prezzi inizialmente, appena fatto, però ti rendi conto che essendo poco carica... Perde subito. Perde subito. Qui abbiamo un po' di nera di oliena, o anche chiamata nera di lacidro, ma ti parlo proprio di poche piante. Abbiamo anche bosana, però qua non è il clima ideale per la bosana, perché si soffre di cicloponio, quindi va a defogliarsi, non è il clima ideale. La verità, le abbiamo anche in estate. Quelle che avevamo, la maggior parte le abbiamo in estate. Qui abbiamo una verità molto antica, per ora a me sono rimaste alcune piante, che si chiama careggia, ciliegia, in pratica perché ha proprio la forma della ciliegia. La forma della ciliegia. Quella le raccogliamo inizialmente, ti dico, sono talmente poche che non ti so dire che tipo di olio vado a fare, perché sono veramente poche, quindi le raccogliamo insieme alla tonda, inizialmente, quando sai si fa il primo olio, quell'olio che utilizzi tu, il primo olio che si fa, perché sono le prime chiamature, quando è voglia di olio nuovo. Però non è la nostra semidana, che è quella che partecipa ai concorsi, è quella che poi ha maggiormente ricca di polifenoli. Certamente. Senti, la semidana nella tua zona quindi si esprime al meglio, ha un bel carattere, una bella personalità. Sì, sì. E questa diciamo che è la zona dove è proprio autotona, è proprio dove nasce questa cultivar. Ok. Voi fate una raccolta abbastanza anticipata per ottenere un frutto così ricco di polifenoli naturalmente. In che periodo raccogliete? Allora, noi ne raccogliamo inizio novembre. Allora, ti dico che ci sono state le annate dove abbiamo raccolto, anche il 15, però annata voleva dire che ci sono state le giuste escursioni termiche, che non c'era la pioggia, c'è stato il sole giusto, la sera invece si abbassavano tanto le temperature, quindi si aveva la carica di polifenoli, di profumi, eccetera. Al 15 abbiamo visto un'annata che era perfetta perché aveva, ti giuro, dei profumi spettacolari, però non sempre tu riesci a fare quello che vuoi, perché devi sempre combattere il clima. Con la natura. Quindi quest'anno abbiamo anticipato, abbiamo visto che le ultime annate abbiamo anticipato i primi di novembre, però l'ideale secondo me è intorno al metà mese. A metà mese. Se il clima te lo permettesse, si avrebbe quel minimo, ma proprio minimo, di invagliatura che a noi non dispiacerebbe. Certo, certo. Però anche quest'anno abbiamo raccolto proprio. Ti sto perdendo un'altra volta, hai forse un'altra chiamata? Hai un'altra chiamata in arrivo? Ti ho persa? Ci sono di nuovo richiuso questa chiamata, però non so come fare, ma arrivano purtroppo. No, no, lo so, lo so. Ascoltami, che resa ti danno le olive di Semidane in questo caso, quando le raccogli in maniera così anticipata? Quanto ha resa anni? Su 100 kg quanto olio ottene? È bassa, è del 7 e dell'8%. Mamma mia. È bassissima. Questo è un dato da comunicare al consumatore, per fargli capire che ottieni 7 kg di olio su 100 kg di olive, è un dato che dovrebbe far riflettere anche poi sul trezzo finale. Esatto. Poi tu considera che poi viene anche filtrato, qualcos'altro si perde anche durante la filtrazione. La filtrazione, certo. È normale, inizialmente se ne perde tanto. Certo. Però quando scegli la strada della qualità, questo è il percorso. Lo so, io ho raccolto anche più avanti, so di olivicoltori che magari lo fanno per casa, lo fanno anche per vendere, ma che non hanno magari tutta questa cura. Ma ecco, non rese anche del 13, del 14, ma parliamo di anche tante olive oramai, non invece in bagliatura, ma parliamo proprio di... In bagliate, proprio in bagliate a pieno, certo. È una resa molto alta, certo. Però è anche, come dicevamo prima, un olio che non ha più quelle caratteristiche di amare piccante, non si conserva a lungo, anzi, anche per noi è un condimento, a quel punto non è più quel aspetto salutare. Assolutamente. Assolutamente. Senti, voi nel 2015 avete iniziato questo percorso anche per il biologico. Il primo anno... 2010, perdonami. Nel 2016-2017 invece è stato il primo anno che vi ha deciso di imbottigliare voi. Sì, sì. E quell'olio vi ha dato subito delle grandi soddisfazioni. Ci ha dato... Guarda, qui come arrivano, ne parli con lei, perché l'idea di partecipare al presidio Slow Food, perché oramai ne avevamo le caratteristiche, perché si era fatto i tre anni di conversione, ora noi nel 2010 abbiamo iniziato io e lei a condurre l'azienda, quindi insomma si avevano le idee più chiare, erano stati fatti direttamente in certi percorsi. Quindi si è scelto di buttarci appunto sull'imbottigliamento. Prima abbiamo studiato, ci siamo un po' preparate, come si fa Antonietta, perché le cose non arrivano così dal cielo, bisogna anche prepararsi, bisogna sbagliare, e arrivano lentamente. È stata una sua idea, perché appunto, avendo le caratteristiche, e perseguendo gli stessi ideali, gli stessi obiettivi della Slow Food, e per lei era importantissimo dare questa importanza, soprattutto per l'amore di questi olivetti lasciati dagli avi alla Semidana, che fino allora ti dico la verità, nonostante questo sia il territorio di appartenenza, elitario diciamo, però nella nostra zona non si è mai data tanta importanza a questa cultiva, forse perché è più importante la Bosana, che ha polipenoli maggiori, ricordiamo che non è tipica di questa zona. E quindi abbiamo iniziato questo percorso, mandando proprio l'olio alla Slow Food per il presidio, e ricordo che era il periodo di Natale, io gli dicevo, ma figurati, ma figurati, lei invece ci ha voluto credere tantissimo, e ci è arrivata la bella notizia, che gli era stato dato il presidio per Natale. Per noi è stato un regalo, guarda mi emoziono, ancora al pensiero, e da lì siamo partite, l'anno successivo abbiamo iniziato a fare i concorsi, e la Semidana è iniziata a piacere, hanno rivalutato questa cultiva, hanno iniziato a conoscerla. Diciamo che un piccolo merito abbiamo portato un po' la Semidana è a livello internazionale, insomma, l'abbiamo fatta conoscere, riconoscere, riconoscere, sì, riconoscere. Infatti, come dice qualcuno, la Semidana è fatta bene, ha il suo perché, è buona, è proprio buona, le sue caratteristiche. Poi ricordiamo che è un olio pomodoroso, corciocoso, è che non ti piace. È ricco. È ricco, come le cultivar sarde, che hanno queste caratteristiche, che piacciono, è vegetale, si sente la frutta secca, tutte queste belle caratteristiche. Sì, sì, assolutamente. Senti, hai sulla testa una pianta, riesci ad avvicinare un po', a far vedere se ci sono delle olive, quanto sono grandi, perché da te saranno già abbastanza cresciute. ecco, non lo so, le vedi? No, no, non le vedo, c'è il sole, infatti. Non ho visto qualcosa, aspetta, eccole, eccole, eccole. Le vedono, le vedo, le vedo, bellissime, sono bellissime. Questa è la grandezza in questo periodo, in questo livello qua, ti dico la verità, qui si è sofferto, ti ricordi durante il periodo lockdown, non so se è anche da voi c'è stato, e c'è stato il gelo, quindi non ti dico la nostra, preoccupazione, certo. L'esperazione perché siamo venuti, avevamo tutti i germogli mangiati, avevamo le mignole bruciate, quindi lì velocemente abbiamo fatto dei trattamenti con amminoacidi, abbiamo fatto boro, abbiamo cercato di, tornando al bambino, che cure gli dai? Esatto. Non ti dai, non ti dai per vinta, assolutamente, cerchi di fare tutto quello che è possibile. Certo. Quindi quest'anno, purtroppo, questo olivetto sarà, è un olivetto sofferente, però delle cure, gliele abbiamo dato, si fa il tutto possibile. Certo. Un po', guarda, si sono anche riprese, ma un po', sai cosa vuol dire, proprio un pochino. Non sarà un'annata particolarmente abbondante? No, in questo olivetto, in questo olivetto purtroppo no, abbiamo per fortuna altri olivetti che non hanno risentito di questo del gelo, qui purtroppo c'è stata questa problematica. l'abbiamo sentita anche noi, perché purtroppo la nevicata e anche poi la gelata. Aspetta, eccoci qua, ci siamo, ci siamo. Senti, tu chiaramente come dicevamo prima, hai fatto una formazione da farmacista, ma subito dopo per poterti iniziare, poter iniziare questo nuovo cammino, hai fatto una formazione invece da, oh, ti ho ripersa. Sì, eccoci, eccoci, ecco, forse c'è poca connessione, ci sono. Sei in campo, giustamente. Hai rifatto un altro percorso. Faccio mettermi un po' più all'ombra, ecco qua. Ok, ok. Diceva, hai fatto un nuovo percorso di formazione per poterti preparare a quello che, evidentemente avete lavorato bene, studiato bene, perché per essere riusciti a ottenere subito un consenso positivo da Slow Food, con prodotto di qualità, subito alla prima annata che avete imbottigliato, marca miseria, complimenti, ma davvero tanti complimenti. Allora, di questo, allora, Anna prima di tutto ha ripreso un po' gli olivetti, che avevano bisogno di, insomma, di un rigiovanimento che ottieni quella potatura, assolutamente, quindi un vaso policonico, questo è quello che abbiamo fatto. Guarda, sta arrivando, magari di questo te ne parla proprio lei. Ok. Ti stavo dicendo, quindi c'è stato un rigiovanimento un po' dell'olivetto, e poi niente, Anna, eccola qua, vieni, no, da questa parte devi venire, aspetta un secondo. Sì, prego. Anna, vieni qua sotto che c'è l'ombra, e ti stavo dicendo, sì, primi anni è stato un po' un periodo di studio, vieni Anna un attimino, qui, così le racconti. Salve. Ciao Anna, buongiorno, piacere di conoscerti. Anche il mio piacere, piacere. Ciao, ciao, vi ho viste in foto insieme, adesso vi vedo proprio fisicamente, e vi conoscerò presto entrambe. Ti trovi in un altro abitato naturale. Esattamente, esattamente. Allora, adesso lasciamo una, no, no, non scappare via che ho due domande per te. Sono qua, sono qua. Torna sotto l'albero. Ecco, così fammi tu. Adesso chiedo, faccio due domande a te, Antonella, Antonella stai lì anche tu che vi voglio vedere entrambe. Anna, il tuo percorso da psicologa? Io ho fatto un percorso un po' lungo, un po' particolare. Esatto. Perché io sono diplomata laureata, mi sono appena di nuovo diplomata quest'anno. Ok, però la tua formazione iniziale non era proprio quella di fare, passare la tua vita negli olivi. Assolutamente. Ma questo percorso che invece hai fatto precedentemente nella tua vita, quindi il medico della mente, ti ha aiutato con questo olivi? Del lavoro però, eh. Ok, comunque, ecco, ma ti ha aiutato, ti ha aiutato a comunicare con gli olivi, visto il risultato ottenuto? Avete comunicato bene? Sono loro che riescono a comunicare. Guardi, io le dico la verità, è una cosa particolarissima per me. Ogni volta che io cammino qua, riesco a dimenticare tutto. Per me, rientro in un mondo che è qualcosa, guardi, è una cosa che veramente non riesco neanche a spiegare a parole. Però è una passione che poi uno, le passioni sono amore, l'amore non è spiegabile a parole giustamente. è qualcosa che ti fa star bene. Io all'improvviso mi sono ritrovata, forse lo sa cos'è, la verità, che ritrovo, mio padre manca, nostro padre manca da tanti anni, è ritrovare lui, perché lui amava il suo lavoro, amava ciò che faceva, ci credeva tanto, era una persona orgogliosa, faceva sempre le cose, lui è la cosa che ci diceva sempre. L'importante è che le cose le facciate bene. Vengono fatte col cuore, con amore. Lui diceva, se non le fate bene, non fatele neppure. Lui era, lui guardi questa frase, tante volte mi è ricapitata nella testa, perché era veramente quello che lui credeva, di fare le cose bene, ma non per te stesso, lui ci diceva, per avere orgoglio nella vita, nella, quello che si fa. Certo. E poi è quello che conta, sentiteva soddisfatti, no? Assolutamente. Beh, e questo è un po' di psicologia, soddisfazione del... Esatto. Senti, una cosa, quindi tu adesso sei, attualmente sei l'agronoma, in questo senso. No, guardi, noi siamo una famiglia, ci occupiamo... Tutti di tutto. Esatto. Poi nella parte della olivicoltura, sì, io sono quella che viene in campagna, però Antonella si occupa di tanto altro. Certo, certo. E poi c'è sempre il confronto, che deve essere la base di tutto. Altrimenti non si cresce. No. È importantissimo, è importantissimo. Allora, sentite ragazzi, una domanda per entrambe. Questo è stato un po' il vostro bambino, che lo state attirato su, come fosse un bambino, come diceva Antonella prima. E i progetti futuri, di farlo crescere ancora meglio, sempre meglio, dal tuo punto di vista, quali sono? Cosa vuoi fargli fare da grande a questo bambino? Guardi, adesso c'è il signore che lo sta pulendo. Guardi, le ho fatto vedere per farlo capire. Guardi, quest'anno, questo olivetto, proprio che stiamo nello specifico, la campagna è così. Arrivato un gelo, era stupendo. Sì. Ce l'ha distrutto. È come un bambino, come ha detto lui. Bisogna seguirli. Però le dico una cosa, a me mi hanno detto una cosa, molto, che io credo, che la differenza tra la vigna e l'oliva. la vigna dicono in sardo, è come una donna, una bella donna, frottiera, come si dice in sardo, che ha sempre bisogno di cure. Invece lui li vanno poche cure, lui ti renderà sempre di più di quello che ti gli hai dato. È una pianta molto, molto generosa. Esatto. No, guardi, le dico la verità, io li vorrei tenere come li aveva mio babbo, per me questo è il mio obiettivo, tenerli come li aveva lui. Mantenerli così come erano, pure nel loro abito naturale. Sì, come ti diceva Antoinette, quando è venuta a mancare mio papà, poi Anna ha fatto un lavoro di ripristino per riportarli in auge, come quando li aveva lui. Che è quello il nostro obiettivo. Infatti mi ha detto, prima della slow food, lei si è occupata proprio a riportare questi olivetti in produzione come quando li aveva lui, assolutamente. Che erano proprio belli produttivi, magari non si era attenti a raccogliere l'oliva prima dell'invaiatura. C'era una consapevole di esperienza del mestiere. Capito. Però le piante erano belle. Però il fine non è neanche... Il risultato di un concorso è il riconoscimento del lavoro. Certo, assolutamente. Però l'obiettivo non è il concorso in sé. Per me l'obiettivo è avere le cose tenute con amore. Certamente, è bene. E ti ripagano, eh. Se fatti quel sentimento ti ripagano poi. No, ma guardi che si trova una pace in mezzo agli olivi che... Poi sono piante secolari, cioè tu puoi soltanto cercare di rispettarle. Di volerli bene. Esatto, esatto. Senti, vedo che sei a molta distanza tra una pianta e l'altra. Quanto... Otto per Otto è questo. Perché in antichità... Si faceva così. Quando c'è stata la razionalizzazione piemontese si è cambiato un po' la sella il testo di impianto. Questo è largo, ma a me piacciono così larghe. A parte che la pianta è maestra, è regina qua. non è schiacciata, non ha il vile... Esatto. È brutto a dirsi, il vile ruolo di dare un frutto. Ma... Cioè il compito dell'oliva è molto più importante che solo l'olio. È una pianta secolare, ha un valore storico, monumentale, cioè ha tanti valori. Questo è quello che ho più largo, le dico la verità. Sì. Però a me piace, io domani se dovessi ripiantare un olivetto penso che lo farei a differenza. lo fareste ancora così. Molti fanno gli intensivi per dire, però va bene, noi facciamo una cultura diversa. Ci sono tanti tipologie di agricoltura, c'è chi fa agricoltura in precisione, chi fa agricoltura biologica, cioè quella è poi la scelta che fai in base a quello che sei tu, giustamente, tu proponi quello che sei poi, perché però sarei qui soltanto meno profitto alla fine. Certo. Senti, un'ultima domanda per entrambi. Allora, domanda, più che una domanda è una considerazione. Quando vi è arrivato quel premio, quel riconoscimento da parte del SgoFood, sotto Natale, tra l'altro, un regalo di Babbo Natale. Di Babbo. Esatto. Di Babbo, di Babbo. Brava, di Babbo. Vi sarete sentite come due mamme che aprono una pagella bellissima del proprio bambino. Guardi, io mi sono messa a piangere, le dico la verità, della gioia. Ci credo. Mi sono messa a piangere. Mi ricordo precisamente il momento, come lei me l'ha detto, mi sono riassaporata il momento. Sa quei momenti, con l'impresso e quello è uno di quei momenti. Le rivivi. No, perché è stata un'emozione forte per me, perché è proprio un discorso di... Ti ho detto che lei ci credeva, io dicevo no, non è possibile, lei ci credeva a tanti. Abbiamo, guardi, ma di cui ci crede, avevo qualcosa dentro, io lì c'è, ma noi la proviamo dando al massimo un cirico. Esatto, brava. Esatto, non lo puoi sapere se non ci provi. E poi, è una delle nostre più belle avventure. Esatto, sì, è vero. Forse è la più bella di tutto, le giuro, guardi. Ci credo, ci credo. togliere niente all'agriturismo, però per noi questo è il completamento dell'agriturismo, perché poi chi fa agriturismo e crede nella produzione propria di qualità, riuscire a fare un prodotto certificato a terzi, vuol dire che qualcosa sia riuscito a fare, è una soddisfazione della vita, insomma. Senti, io ho assaggiato il vostro olio, naturalmente, e pubblicherò il video di questa... Noi non vediamo l'ora. Adesso, subito dopo la nostra cacchierata lo pubblicherò, naturalmente. Ma, ci risentiremo, perché avrò piacere di utilizzare il vostro olio magari abbinato ad una ricetta... Adesso decido quale chef e faremo una ricetta in una videoricetta con uno chef con il vostro olio. Devo studiarmi bene quali sono le caratteristiche dell'olio per poterlo dare, chiaramente, renderlo protagonista del piatto. E di questo però ve lo farò sapere tra qualche giorno. Ok? Ragazze, io vi ringrazio tantissimo entrambe. No, una promessa, Antoinette. Sì, certo, dimmi. Cosa hai detto? Che vieni... No, no, verrò a trovarvi, assolutamente, è davvero una promessa. Cioè, allora, io mi giro un pochino, però qui siamo... È meraviglioso. Ma non ti dico il sole che c'è qua, assolutamente, proprio... È stupendo. Si sta già bene. Siccome quest'anno c'è anche meno lavoro, diciamo, in agriturismo, abbiamo più tempo da dedicare anche agli ospiti e poi ci godiamo anche un po' il mare, diciamo, dai. Guarda, con grandissimo piacere, davvero, col cuore. Ci verrò con grandissimo piacere. Ragazze, vi ringrazio tantissimo e come sempre lo vogliamo amaro e piccante. E piccante, sempre. Ciao ragazze, grazie mille. Un abbraccio. Ciao. 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 Ciao.